salve amici del centro meteo italiano come da ultimo decreto ministeriale per limitare ulteriormente gli spostamenti questi video saranno realizzati senza la presenza del meteorologo studio il prossimo weekend sul comparto mediterraneo potrebbe presentarsi con due volti differenti andiamo a vedere la tendenza che ci aspetta per i prossimi giorni anche sul nostro paese il fronte freddo che ci sta interessando in queste ore tenderà muoversi rapidamente verso est lasciandosi alle spalle una limitata laguna barica da questa si originerà quindi un ultimo centro depressionario che transiterà verso il sud italia determinando condizioni di generale maltempo sarà ben diversa invece la situazione a partire da domenica quando l'esteso campo di alta pressione inizierà una lunga rimonta su gran parte dell'europa e con esso le temperature tenderanno quindi a subire un generale rialzo specie nei valori massimi riportandosi in linea con la media stagionale per tutti i dettagli invitiamo come sempre a seguire sia il nostro sito che il nostro canale youtube un saluto da parte del centro meto italiano